La prossima seduta del Consiglio Comunale inizierà come di consueto con una discussione di tre question time. Il primo riguarderà la collocazione del Luna Park sul litorale pisano, il secondo riguarderà il crollo che recentemente è avvenuto proprio alla scuola comunale di Marina di Pisa, infine il terzo tratterà del forno crematorio. Il Consigliere Ricci del gruppo Una città in comune chiede all'assessore Serfogli di capire se effettivamente ci sono stati dei ritardi nella realizzazione del forno e a cosa sono dovuti. Il Consiglio poi proseguirà con altri atti, interrogazioni, e interpellanze, ma in particolare poi ci sarà la votare sui nuovi assetti della Commissione di Controllo e Garanzia a seguito dell'uscita che è stata formalizzata nei giorni scorsi e del Consigliere Garzella dal gruppo di Forza Italia Pdl. Su questo farà una comunicazione e il Consiglio Comunale poi dovrà decidere sugli atti conseguenti, quindi in particolare la composizione della Commissione di Controllo. Ci sarà poi un'ulteriore delibera sull'alienazione degli alloggi ex ERP e infine chiuderemo con una discussione dell'argomento che riguarda Canapisa, la manifestazione che ormai da diversi anni avviene sul territorio del nostro Comune, una manifestazione che è criticata da molti e quindi è stata chiesta appunto dal Consigliere Garzella come primo firmatario di poter discutere per capire se ci sono possibilità per far svolgere questa manifestazione in altre città o comunque quali misure si possano prendere per cercare di limitare al massimo i disagi per la città. Questa è la richiesta del Consigliere Garzella.